Sì, oggi è una grande giornata, io penso che sia una grande giornata per la sostenibilità è una grande giornata per le smart city, si parla tanto e si dice molto di questo tema delle smart city, noi cerchiamo di fare in modo che questo avvenga, oggi abbiamo siglato un importantissimo accordo con Apoa, il principale operatore in Italia e all'estero del sistema della sosta, proprio perché crediamo fortemente da tanto tempo che l'app naturale della sosta sia quello da cui partire anche con la micromobilità e quindi presentiamo e mettiamo in otto e metteremo i nostri sistemi di sharing, di biciclette elettriche a deduzione, quindi anche questa è una novità mondiale che noi abbiamo, assieme anche al mobility scooter per le persone che hanno disagi motori di ogni tipo. Oggi quindi siamo molto contenti di annunciare questa partnership assieme ad Apoa, rappresentata dal suo direttore commerciale Andrea Grassi anche qua al quale lascio la parola perché oggi per noi è veramente importante questa partnership. Grazie per l'ospitalità, anche sul nostro sistema, questo è un investimento molto importante e noi siamo molto soddisfatti della partnership un nuovo, principalmente di usare le nostre strutture di parcheggio, servizio sostenibile, innanzitutto innovativo, semplice, che permetterà di aumentare anche i cipri urbani più di mezzi sostenibili e che è un po' che non è in questo. Il progetto si inserisce nel titolo del nostro programma di gruppo che ha fatto a Google One Apps che mira a rendere le strutture di parcheggio dei Google Apps urbani della mobilità sostenibile al servizio delle città. Un progetto che comunque è già stato arrivato da due anni a livello europeo, questa per noi è un'attività molto importante in quanto sarà un servizio che oltre a essere sostenibile sarà integrato in una nostra piattaforma digitale e pertanto un utente, un'unica piattaforma digitale potrà influire del parcheggio, delle colonie di ricarica elettrica e delle biciclette elettriche. Quindi semplice, veloce, intuitivo da utilizzare, veloce e assolutamente sostenibile. Questo sarà diffuso, diciamo, l'obiettivo è di diffonderlo su tutta Italia. Tutti i parcheggi in gestione ad Arcoa che sono la gran parte, quindi nelle principali città, ma non tralasciando anche le città di provincia che possono avviare magari anche con più facilità questo processo di petonalizzazione, ma anche appunto di poter girare in colune bike tranquillamente nei centri urbani e nei centri storici senza difficoltà anche nel momento in cui bisogna pagare, per cui con una stessa app potrà pagare il parcheggio, prenotare il parcheggio, pagare il parcheggio, magari caricare l'auto elettrica, pagare la ricarica, ma pagare anche lo scenario della bicicletta in un'unica soluzione. Credo che questo per l'utente sia una facilitazione importante. Insomma, la mobilità urbana si è già trasformata dopo la pandemia in modo sostanziale nelle nostre città. Questo è un segnale concreto che le cose si possono fare, ma è anche un segnale che si possono fare insieme. Possono fare con vari operatori che a vario titolo si occupano appunto dei trasporti e della circolazione delle nostre città. Grazie.